Perché scegliere Reggiani? Noi siamo partiti da un discorso di startorialità rinnovata, avant-garde, con dei tagli molto particolari, lo studio del colore in modo molto armonico, musicale. Siamo specialisti del bicolore, non fatto in modo banale, bianco-nero, eccetera, ma con colori di contrasto molto particolari, molto inusuali. I tagli dei cappotti sono minimal, ma estremamente a decor, molto decisi, accattivanti, gli abitini sono estremamente femminili, li trovate solo da noi. Lo studio del colore è fatto che chi si vede comunque in un modo molto, molto deciso, perché ci sono dei contrasti molto studiati, i negozi sono molto contenti perché i capi sono estremamente coordinabili, quindi molto vendibili a livello commerciale nei negozi. In più è un prodotto fatto tutto in Italia, con i carismi del Made in Italy autentico, non improvvisato, tessuti stretch di Reggiani di altissima qualità. L'azienda è in Valsesia, in Piemonte, le persone che lavorano con me sono persone del territorio, io ci tengo molto a questi valori, abbiamo il nostro laboratorio, quindi un prodotto verticale completo, dal tessuto fino al prodotto finito. Serviamo il top dei negozi italiani ed esteri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.